Sono Giulio Cappellini, curatore con Domitilla Dardi della mostra Local Icons che inaugura questa sera al Maxi di Roma. Local Icons 2016 è la prosecuzione della mostra che abbiamo fatto lo scorso anno dedicata alla città di Roma. Quest'anno abbiamo deciso di espandere il nostro immaginario viaggio nel mondo, quindi mettendo a confronto culture occidentali con culture orientali e quindi abbiamo chiesto a diversi personaggi di raccontare con un proprio linguaggio, con un proprio segno di design e di architettura la città in cui sono nati o la città in cui vivono. Quest'anno ai designer partecipanti abbiamo chiesto di lavorare su un doppio registro, quello dell'installazione dove il confronto con lo spazio era proprio quello ideale di un viaggio all'interno dell'autenticità, della peculiarità di questa città che loro conoscono molto bene. Dall'altra parte l'oggetto di ricordo, cioè quello che tradizionalmente definiamo souvenir, ovvero l'attivatore di una memoria, cioè di quello che dovrebbe rappresentare il richiamo all'esperienza vissuta. Alcantara si è rivelato come sempre un materiale di estrema versatilità che ha reso possibile proprio l'idea di entrare nel vivo della dimensione progettuale di ognuno.